E' attento che la muorvi Se questo video arriva a 70.000 like ci scambieremo gli animali per 24 ore Bella raga e bentornati in questo nuovissimo videoblog Baby Belli raga come state? Tutto a posto? Tutto bene? Dai ragazzo da quanto tempo non ci sentiamo? Scherzo ho postato pochi giorni fa perché ora sono tornato attivo Comunque oggi siamo sempre nella casa mia a Milano Oggi non sono con i proprietari di casa ma sono con gente molto meglio Perché stiamo pranzando tutti insieme come una vera famiglia Oh lui è nudo ragazzi si sta coprendo col parmigiano E noi stiamo a mangiare la pasta tutti insieme Stiamo mangiando stiamo pranzando io sempre con la crema in faccia Postatelo su Instagram screenshot fra 3 2 1 A posto? E qua abbiamo sempre il nostro piccolo e dolce blu Fate uno screenshot anche di lui e postatelo su Instagram Guarda quanto è bello Ciao amore è una telecamera si è una telecamera Oddio raga mi ha dato un bacetto Raga per questo video minimo 80.000 like per il bacetto di blu Cioè è assurdo fate un bacetto live E ci sono ancora persone che dicono che fa schifo Lui è un gatto bellissimo non ha il pelo è diverso ma è bellissimo Se non avete visto il video quando sono andato a prendere blu Andatelo a vedere subito ve lo lascio in descrizione Oppure andate sul mio canale Guardatelo sta giocando con la tenda Vai bro attacca chi è? Chi è? Con chi ce l'hai? Attacca qua No basta non si diverte più Non gli piace Basta gli fa schifo Comunque come avete detto dal titolo Oggi andremo a fare un video Molto molto figo Cioè è un video un po' più movimentato Perché i miei ultimi video sono molto seduti Quindi adesso correrò per casa No scherzo basta non mi piace I miei video sono stati molto seduti Molto tranquillo Perché non mi andava più a dire cari Però adesso siamo stati molto più forti di prima Quindi iscrivetevi al canale Perché puoi arrivare al milione prima della fine dell'anno Mi raccomando eh mi raccomando Un'altra cosa Nel video di oggi andremo a fare una cosa assurda Andremo a fare per la prima volta a incontrare Blue A King e Angel Che sono i cani di Sespo Il mio amico Valespo Non so se lo conoscete No comunque li andremo a fare incontrare Perché Sespo li ha lasciati qua a casa mia Loro sono in quella porta Ve li faccio subito 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 Vedete loro sono qua Fermo bello King King Angel Belli Shhh Non fare casino Non fare casino Tranquillo tranquillo Ok Shhh Zitto E guardate qua Abbiamo lasciato un botto di traversine Oh Non ci credo L'hanno fatta sulla traversina Brava Angel Abbiamo lasciato così tante traversine Perché loro fanno la cacca ovunque Perché King sta male E quindi abbiamo deciso di metterne un botto Così non mi cagavano per terra E ha funzionato ragazzi Quindi lasciate un like per King Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere No Non siete più bravi Eravate bravi Adesso non siete più bravi Capito Guarda che hai fatto là King Che hai fatto qua Che è stato Chi è stato a fare questo Non sei stato davvero Scappi via Eh bravo bravo Paraculo Comunque Oggi li andremo a fare incontrare Però prima Vi vloggo un po' della mia giornata ragazzi Perché che è Cioè voglio interagire con voi Voglio farvi vedere come va la mia vita Come va la mia giornata Stiamo qua a casa Eh non ho sentito bene Eh non ho sentito bene Che hai detto amici Amici siamo Zao 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 Vabbè e quindi fra un po' Vabbè quel cane è morto Vabbè ormai è andato Vabbè quindi King incontrerà Blue Per la prima volta Dai Ok ragazzi Qua abbiamo Blue Pronto per l'incontro Per la prima volta MDT Dimmi Tutto a posto Oggi Blue incontrerà per la prima volta King e Angel Che sono di là Oddio Che ne pensi Eh Secondo te come reagirà Ok Devi indovinare come reagirà Secondo te Secondo me se lo saranno E Nessuno si arrabbia No Ok ok È bello Calcola A casa a Roma Il mio cane non ha reagito E lui Ha reagito tantissimo Ha fatto Potete trovare il video Sul profilo Instagram Blu Trattino basso Il gatto Quindi adesso Stiamo andando E faremo incontrare Queste due bestie Carini Ok regata La clip precedente a questa È passata tipo sette ore Siamo uscite Abbiamo pranzato Abbiamo fatto di tutto Siamo tornati a casa E abbiamo lasciato King e Angel In una stanza E infatti si vede È pieno di cagate Dappertutto pisciate E nell'altra stanza Il mio bellissimo E bravissimo gattino blu Che è stato nella sua cuccia Ha fatto la nanna Ha dormito tutto il giorno E quindi adesso Finalmente faremo L'incontro dal vivo Lo faremo che Sespo tiene King Ecco Sespo tiene King Lo salva tiene Angel E io blu Cioè ognuno tiene il suo animale E vediamo come reagiscono Però prima che questo succeda Dovete fare tre cose Uno iscrivervi al canale Due commentare Secondo voi come reagiranno Tutti e tre Dovete mettere King Due punti come reagirà Angel due punti come reagirà E blu due punti come reagirà E tre seguirmi su Instagram Valerio.mazza Già che ci siamo Anche Sespo E sai che facciamo bro E sai che facciamo bro? Ora questa è il piscio di Angel Perfetto Facciamo una bella cosa Perfetto Ok Ragazzi facciamo il momento Valespo Che per i fan veri Che se lo ricorderanno È un momento Dove noi ci mettiamo in posa Voi dovete fare lo screenshot Lo postate su Insight Non ci taggati Noi proviamo a mettere like A più persone possibile Non lo facciamo da tantissimo tempo Quindi facciamo 3, 2, 1 Via Cazzo Mi ricordo ai vecchi tempi Assurdo Quando eravamo davvero Siamo tutti pronti bro Lo dobbiamo fare in questa stanza L'incontro Roski Prendi Angel Diego tiene telecamera Vieni Let's go Ok Tappate gli occhi Tappate gli occhi Io gli ho tappato gli occhi Bro lo senti È un cane Oh merda Oh merda Oh merda Aspetta 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 Prendici tutti e tre Sei pronto Ok ci sto Ok King si è tolto la benda E sta guardando Non è una benda Vabbè Vabbè Aspetta 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 Fermo Fermo Manco a King gli importa Non faccio male vicino a troppo per le unghie Sembra Eh ma non è Non è un ninja Cioè Indormentatissimo Come sta Ciao Angel no Angel muore Solo che Siete amici Gli tappate Wow Wow Amore Pure chi che c'è l'unico Amore Lui viene dal ghetto Si vede Amore Non ti incazzare Chi vuoi da usarlo Fai a usare No Non puoi inzare No Sì Angel Si è l'acqua quella Ok vediamo Può me di toccare una zappa No scherzo Sto paurissimo Guardate Guarda Angel Guarda Angel Guarda Sì Sì Wow A me non me lo fai A me no Oh che buono Che buono Guarda King è divertito King vuole giocare Sembra proprio Che non sia successo in niente Lei è stato in less E' tipo E' tipo Benissima Si si Lei è polliciatissima Chi gli batte Non è però Gli batte tantissimo Anche Angel Anche Angel Lui si vede che è nervoso Lui no Lui no Lui no Raga secondo me Stanno fanno Ma che cazzo Dicono questi Ma sono ritardati Ma c'è la coppa Stanno fanno la coppa Ma secondo me C'è lui che sta Stanno fanno Quanto è buggata Bro si è rotto Stanno fanno Altissimo Che hai fatto C'è il pin Altissimo Questo cane Prova a metterla Vai a fanno Piano 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 Attento che la morde No Si rompe un dente C'è Ma con quali Mi sto tenendo in alto Guarda che freddezza Il gatto Dai Il gatto C'è una freddezza Ok Mettili lì Non mi metto a terra Metti tu il cane a terra E tu prendi il gatto Così si fa Il gatto Se va a tenuto in braccio Il cane Io mi sto tenendo le zampe Eeeh Wow Vai lascialo giù Lascialo giù Lascialo giù Vai avete mai sentito Zitti 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 Per favore Per favore Sta facendo rumore Vai Sta facendo il rumore Kinga King King viscia E' carichissimo il gatto Ma è il gatto il passo rumore Sembrava un aereo Sembra un iphone che vibra Guarda come lo pissa Guarda 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 sposto King Oh Va bene Ok basta bro Sono molto amici Come padrone Non sono stati molto amici Aspetta vediamo se è ancora buggato questo Bro No non Ok ragazzi Proprio come avevo Predicted Io Il mio gattino Gli ha ringhiato Perché ha paura Raga vede due cani giganteschi Poverino Cioè è la prima volta Che vede i cani piccolini Come lui E quindi si sentiva superiore Mentre loro sono stati molto tranquilli Angel sembrava morta King aveva paurissima Si vedeva stava tremando Gli batteva il cuore Commentate raga Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Perché dobbiamo arrivare al milione Prima della fine dell'anno Raga è veramente importante Raga per favore Voglio quella placca dal milione Da mettere vicino a quella dei 100k Quindi per favore Seguitemi su Instagram Lo ripeto ancora un'altra volta Valerio.mat6 Noi ci vediamo in un altro bellissimo video Vlog Qua ci sta Blu che vuole salutare Blu Blu saluta qua Vai Saluta Fai l'altro Fai l'altro Blu Fai l'altro Vai Attacca Chi è quello? Chi è quel gattino? Qua Chi è qua? Guarda qua Sì che questo video Si è piaciuto Arriviamo a 100k like Oddio Bello Un altro bacino Mi ha dato 100k like Con un altro video del genere E Noi ci vediamo in un prossimo video Raga Bella Chuyo Noi ci vediamo in un prossimo video